Il segretario generale della federazione mondiale e il presidente della federazione europea insieme ad Andria per visitare le strutture sportive ed alberghiere e fare soprattutto il punto della situazione a sei mesi dei campionati iridati di Taekwondo ITF in programma al Palasport di Corso Germania dal 5 all'11 settembre. Il nordcoreano Kim Sung-wan, braccio destro del numero uno al mondo della disciplina, il master Ri Yong-sun e il gallese Eduard Priwet hanno preso parte nella sala giunta di Palazzo di Città alla prima conferenza stampa utile a lanciare mediaticamente il grande evento andriese. Per il successo di un evento come questo ci ha bisogno di tre cose importanti, capacità organizzative, strutture e la possibilità che una città come Andria sia in grado di ospitare ma la tradizione e l'ospitalità tipica delle nostre terre sicuramente permetterà di ottenere un grande successo perché tutti dobbiamo lavorare perché ci sia un grande campionato mondiale nell'interesse della promozione sia dell'ITF che anche della terra e della città che lo ospita. Andria si conferma città di grandi eventi sportivi e capitale del taekwondo ITF dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno con gli europei. Come presidente della federazione europea sono molto felice di tornare qui ad Andria. Con l'ITF Italia già abbiamo lavorato per due campionati europei, il primo è stato nel 2010 a Barletta, c'erano stati alcuni problemi, si è discusso su quali fossero stati i problemi e nel 2015 si è tornati e si è fatto un lavoro perfetto qui ad Andria. Questo ha dato la possibilità durante il congresso mondiale di ottenere un altissimo numero di voti, pensate da delegazioni di 89 paesi. Abbiamo avuto tre quarti dei voti. Credo che sia un grande riconoscimento per l'impegno profuso nel settore sportivo da parte della nostra città e della nostra comunità. Dopo aver ospitato i campionati europei abbiamo ora la possibilità di ospitare i campionati mondiali e credo che sia una importante vetrina per la città di Andria. Il mondiale ad Andria è l'ennesimo grande successo organizzativo della Fitsport Italia presieduta dal barlettano Ruggero Lanotte. Quando abbiamo fatto la prima riunione per i campionati europei noi della Fitsport gli abbiamo promesso che se i campionati europei fossero andati al 100% bene come sono andati abbiamo proposto Andria per il mondiale. Così è stato e adesso siamo qui a discutere proprio del mondiale.